Senti, dove siete a dormire? L'agriturismo o la Puglia? 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 E' successo anche a Lorozzi. E' 1000 e povanci. E' 1000 e 10. No, è tipo tutti gli aggiornamenti. E allora si è riattivato tutto. Eh sì. Ok. Stasi due. Ok, bene. Due. Gianto, gianto. Per te, per te, per te. Vai, il resto del suono. Vai, 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 vai. Ok. Bene, gianto. Vai, 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 vai. e ringraziamo Giulio Onori e ringraziamo e ringraziamo